Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro schermo. Oggi ci siamo venuti a trovare un ospite eccezionale, il tecnico del Lecce Fabio Liverani. Benvenuto mister, benvenuto al Corriere dello Sport. Ci possiamo dare del tu? Certo. Benissimo. Allora, Fabio, per la prima volta torni all'Olimpico da allenatore, dopo cinque anni passati da Lazio, che da capitano, insomma, quali sono le tue emozioni? Beh, sicuramente è un'emozione grande, nel senso che rientro a casa, a uno stadio che per cinque anni è stata casa mia, tutto un ambiente, quindi un po' di emozione e anche di felicità di ritrovare tante persone che abbiamo passato dei momenti belli, meno belli, però una storia di cinque anni, insomma, difficile da cancellare. Quindi c'è un po' di emozione e c'è tanto orgoglio di essere ritornato poi anche da allenatore. Senti, questa sconfitta della Lazio in Europa League contro il Celtic, da un certo punto di vista, non ti aiuta, perché, insomma, saranno abbastanza cari, diciamo, vogliosi di riscatto. Sicuramente non li troviamo rilassati, saranno sicuramente arrabbiati per questa partita, anche se poi la prestazione c'è stata da parte della Lazio, poi l'episodio finale ha portato la sconfitta. L'ho vista anche a Milano, insomma, è una squadra forte nella globalità, con grande individualità, quindi per noi è un altro esame molto difficile, cercheremo di farlo come al solito con grande attenzione, concentrazione e vediamo poi quello che ci tira al campo. C'hai già in mente un paio di soluzioni per bloccare i tanti, tanti giocatori forti che la Lazio, Noi possiamo farlo solo di collettivo, dobbiamo essere bravi a lavorare da squadra, di collettivo, tra i reparti. È normale che le individualità che ha la Lazio sono importanti e sono complementari tra loro, quindi hanno tutte le qualità tra la fisicità, la tecnica, la profondità, e quindi è una squadra difficile pure anche da poter affrontare e da marcare. Però, insomma, cerchiamo di fare la nostra partita lavorando un po' su loro, ma anche e soprattutto su noi. Siamo arrivati adesso a novembre, no? Stai seguendo i piani della tua tabella di... Cioè, Lecce, hai punti in classifica che tu avevi prefissato all'inizio stagione oppure manca qualcosa? Ma noi abbiamo, come tutte quelle che retrocedono, abbiamo questa soglia dei famosi 40, quindi l'idea è girare tra i 17, 18, 20 punti, l'abbiamo messo in preventivo, e altre tanti nel ritorno. Credo che gli ultimi quattro giorni tra Sampdoria e Sassuolo ci manchi qualcosa, un paio di punti almeno, perché forse le meritavamo per quello che abbiamo fatto e le abbiamo visti sfumare per degli episodi che, insomma, non ci hanno girato bene, però ci prendiamo sempre tutto quello che ci dà il rettangolo verde. Abbiamo dieci punti, mancano otto partite da qui alla fine del girone d'andata, e dobbiamo andare a tirare fuori i punti che ci mancano per la nostra tabella. Senti, questo calendario non proprio agevolissimo che avete dovuto gestire, no? Cioè, voi avete già affrontato quasi tutte le big, insomma, adesso manca la Lazio, però avete affrontato l'Atalanta, Roma, le Milanesi, il Napoli, la Juve. Qual è la squadra che ti ha impressionato di più? Ma per fisicità, come io intendo la squadra del campione italiano, credo l'Inter è quella che abbiamo, però probabilmente noi l'abbiamo presa proprio nel momento peggiore, proprio di costruzione. La Juve credo che abbia sempre qualcosina in più, a prescindere che con noi abbiamo pareggiato, ma la ritengo ancora superiore. E l'Atalanta per forza d'urto, per fisicità, anche loro, è una squadra devastante nel campione italiano. Mantenere lo stesso ritmo tra Champions e campionato magari può perdere qualcosa, però è un'altra squadra che mi ha impressionato molto, almeno contro di noi. Senti, come mai il Lecce in trasferta rende più del Lecce in casa? Una domanda che ti fanno praticamente tutti. Sì, credo che sia una cosa non dovuta a un atteggiamento, è una cosa che capita in questo momento. Anche l'anno scorso noi siamo partiti che in casa facciamo fatica e fuori facciamo i punti, e il giornale di ritorno invece è cambiato. Quindi credo che sia una casualità, non un atteggiamento. Senti, due polemiche che stanno accendendo molto il campionato in questi primi mesi. La prima è legata all'uso del VAR, all'utilizzo del VAR. Tu da che parte ti schieri? Cioè, come dovrebbe essere, se viene utilizzato bene, si potrebbe migliorare? Qual è la tua opinione su questo tema? Credo che io, l'unica cosa che non mi agito e non protesto è sul VAR. Perché credo che se è stato messo questo bisogna fidarsi. Si può migliorare cosa? Le tempistiche. Per me sì, forse le tempistiche è l'unica cosa che posso chiedere di migliorare, perché fermare troppo tempo, quello può essere un fastidio. Però io sull'utilizzo del VAR sono positivo, e quindi mi prendo sia il positivo che il negativo del VAR. Seconda polemica è quella legata al fatto che si gioca troppo in Serie A. Molti allenatori protestano su questa cosa, sono abbastanza irritati. Anche secondo te si gioca troppo? In questo calcio moderno? E quindi con più rischi e infortuni, ovviamente. Credo che si giochi così da tanto. Chi fa le coppe è sempre stato così. La Champions è questa da tanti anni. L'Europa League pure. Credo che ci sia, sì, ci può essere un problema fisico. Bisognerebbe essere bravi a cercare di avere delle rose competitive e portare tutti i giocatori ad avere un minutaggio più o meno simile. Senti, per quanto riguarda il caso Balotelli e i bu razzisti, non si riesce ancora a trovare una soluzione. Ce l'hai tu, una ricetta giusta? Secondo te quale potrebbe essere la ricetta giusta? Ma io credo che la soluzione giusta possa essere quella di fermare una partita, la prima che succederà, a chi toccherà, non bisogna crearsi il problema. ma soltanto così, dopo uno che pagherà con la partita persa per i propri tifosi, credo che poi gli altri tifosi saranno un pochino più attenti a fare i stupidini. Dopo anni di inferno, hai riportato in due anni in Lecce, dalla Serie C alla Serie A. Insomma, in trasferta, sei eseguiti sempre da tantissimi tifosi, hai riacceso la passione nel pubblico leccese. E' forse questo il tuo vanto, cioè il motivo per cui vai più orgoglioso? Sì, credo di sì, credo di aver riacceso insieme ai giocatori, insieme alla proprietà, però ecco, vedere tanta gente col sorriso, con la voglia, con la fame di calcio, farsi i chilometri, con sacrifici, per i propri colori, per la propria città, credo che sia uno dell'orgoglio più grande che mi sono tolto in questi due anni e mezzo. specialmente fuori casa, perché in casa siamo tantissimi, ma vedere un'onda giallorossa di 2.000, 3.000, 4.000 persone a 800, 1.000 chilometri, credo che sia qualcosa di stupendo. Non so più che aggettivi trovare per ringraziarli, però credo che se noi arriveremo il 24 maggio al nostro obiettivo, che è quello della salvezza, è un merito importante di percentuale, c'è la nostra gente. A proposito di un'onda giallorossa, che riempirà anche lo stadio olimpico contro la Lazio, tu, tornando all'Olimpico, incontrerai tanti amici che hai avuto in passato la Lazio. Qual è la persona che riabbraccerai con più affetto? Ma i ragazzi che abbiamo condiviso tanto, insieme da Manzini, da Peruzzi, dai magazzinieri, Simone, Tare, insomma, tutte le persone che abbiamo passato comunque dei momenti, il cuoco, il gioco, ondo, insomma. Abbiamo passato tanti anni insieme, tante cose belle, qualcuna meno bella, ma l'abbiamo sempre superata insieme, uniti. Senti, chiudiamo con una curiosità, ma ci spieghi allora che è successo con Babacarra in Lecce Sassuolo, quella sostituzione che... Ho spiegato anche già dopo la partita. Lui aveva subito già un infortunio venerdì, sabato non aveva fatto la rifinitura, e parlando ci mi aveva dato disponibilità. Ha avuto un paio di botte, poi dopo me l'ha spiegato martedì, però il gesto di alzare la mano per me, idealmente dal campo se alzo la mano, è per mandare un segnale di un problema. Siccome lo vedevo un po' zoppicare, un po' così, ho pensato questo. Invece lui mi ha detto che il segno era per aspettare un attimo e non ci siamo capiti. Dalle prossime... Comunque tutto a posto, diciamo. Tutto a posto, senza problemi. Grazie mister, allora è in bocca all'uvo. Grazie a voi. Un saluto a tutti, alla prossima. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.